La riforma dell'articolo 67 della Costituzione, quello che comporta il non vincolo di mandato per i parlamentari, che ha una storia antica. Guarda, io su questo pareri molto ben precisi, ma non fatemi entrare nella politica italiana. Perché non vuole entrare? Ma perché ognuno ha il suo mestiere. Però professore, lei ancora resta un punto di riferimento per molti, no? È salito comunque sul palco a Milano con Bersani. Per molti, per pochini. Per una tazza del Paese. Per il centro-sinistra sicuramente, Presidente. Forse, se lei c'è in tasca, mezza parola. Vabbè.